Nuove fibrillazioni tra alleati di governo dopo il voto in Basilicata con la vittoria della Lega insieme al centrodestra. Il vicepremier Di Maio sottolinea l'esigenza di un chiarimento nella maggioranza in vista delle prossime scadenze. Salvini lo tranquillizza, il governo non è a rischio e durerà l'intera legislatura. Adesso tutti attendono il voto europeo del 26 maggio. Nuovo schiaffo per Theresa May, la premier britannica è stata di fatto esautorata ma non lascia il suo posto. Con un emnesimo colpo di scena la Camera dei Comuni ha approvato un emendamento che sottrae al governo il controllo sulla Brexit. A dettare l'agenda sarà dunque Westminster ma la premier ha già annunciato battaglia dichiarando che non seguirà le indicazioni del Parlamento se queste andranno contro il risultato del referendum del 2016. All'Eliseo il mini vertice voluto dalla Francia tra Emmanuel Macron, la cancelliera Angela Merkel, il presidente della Commissione Europea Juncker e il presidente cinese Xi Jinping. Sulle sfide del multilateralismo assente l'Italia dopo la firma del memorandum sulla nuova via della seta, la Francia che ha ottenuto da Pechino un maxi ordine di Airbus da 30 miliardi ha ribadito l'importanza di una forte partnership tra Europa e Cina. Papa Francesco in Campidoglio accolto dalla sindaca Raggi Bergoglio auspica che Roma si mantenga all'altezza dei suoi compiti e della sua storia che sappia essere una città di ponti e d'accoglienza. Poi sottolinea l'esigenza di mettere in campo risorse e norme adeguate per combattere il degrado e gestire una realtà che definisce complessa. Dopo anni di negoziati il Parlamento di Strasburgo ha aggiornato la normativa europea sul diritto d'autore, il via libera all'accordo provvisorio raggiunto a febbraio è passato con 348 sì, 274 no e 36 astenuti. Adesso i giganti del web dovranno pagare i compensi ad artisti, cantanti, musicisti, giornalisti ed editori per le opere intellettuali e creative messe in rete. L'ultima parola aspetta però al Consiglio europeo. Nel ponente genovese scuole chiuse, case evacuate per un vasto incendio che alimentato da un forte vento sta devastando le alture di Cogoleto. In azione squadre di pompieri e canaderra per contenere le fiamme che hanno avvolto ettari di macchia mediterranea e bosco distruggendo anche due case. Per il governatore della Liguria Toti il rogo potrebbe essere di origine dolosa. Seconda partita di qualificazione in vista degli europei del 2020 per l'Italia di Mancini. Questa sera a Parma la nazionale sfida il Ligtestein. Una sfida che non dovrebbe sulla carta creare grandi problemi agli azzurri. Il calcio europeo intanto va verso la Super Champions. Prevista la partenza nel 2024 con promozioni, retrocessioni e partite anche durante il fine settimana. Buongiorno dalla telegiornale della Sette. Dunque in primo piano c'è come sempre e quasi sempre la politica. Con un governo che Salvini ieri alla luce dei risultati della vittoria ottenuta con il centrodestra dalla Lega in Basilicata ha detto non cadrà rassicurando l'alleato Di Maio. Il suo alleato che però chiede adesso un chiarimento politico dispiaciuto dalle troppe polemiche, dalle troppe tensioni anche davanti a provvedimenti che Di Maio stesso definisce di buon senso come la firma sul memorandum della via della Seta. Ma le divergenze continuano, l'ultima anche a proposito della cittadinanza o meno da dare a Rami, il ragazzino tredicenne che ha evitato la tragedia sul dirottamento dell'autobus nel quale era con i compagni. Il Movimento 5 Stelle è in pressing per dare questo riconoscimento, dicono al ragazzo. La Lega, Salvini, su tutti, frena. Il voto in Basilicata, che ancora una volta conferma l'ascesa del centrodestra e della Lega sul Movimento 5 Stelle, apre nuove fibrillazioni fra partner di governo. Serve un chiarimento tra alleati, spiega oggi Luigi Di Maio dalle pagine del Corriere della Sera, preoccupato della presenza ingombrante di Forza Italia. Il centrodestra vince, ma non esiste, gli altri fanno ammucchiate, noi no. Piuttosto che governare insieme a Berlusconi, il Movimento se ne va all'opposizione, chiarisce il leader 5 Stelle, che rivendica il risultato ottenuto in Basilicata, dove il Movimento è il primo partito, nonostante abbia dimezzato i voti rispetto alle politiche di un anno fa. Ammette di essersi dispiaciuto per le polemiche sollevate da Salvini su Via della Seta e sblocca cantieri, chiede alla Lega più rispetto e invoca un chiarimento e rilancia le questioni sulle quali ci sono differenze di vedute da famiglia e la cittadinanza a rami, che Salvini ha per ora bloccato. Fibrillazioni che spingono Premier e Vice Premier a rassicurare che l'esecutivo non cadrà e andrà avanti per altri quattro anni. Lo scenario potrebbe però cambiare dopo le europee, ed è proprio sull'appuntamento del 26 maggio che si concentra la sfida di Lega e 5 Stelle. Cresceremo ancora di più, afferma Sicuro Di Maio, ben sapendo che se il Movimento scenderà sotto la soglia del 20%, potrebbero saltare gli equilibri all'interno del governo. Equilibri che Salvini, dopo la vittoria in Basilicata e sotto il pressing di Forza Italia per far cadere i 5 Stelle, potrebbe già cambiare. Per il leader della Lega però lo schema non si tocca, avanti col centro-destra a livello locale e con i 5 Stelle a livello nazionale. La strada che porta alle europee però è piena di ostacoli. C'è lo sblocca cantieri, l'autonomia regionale, ci sono soprattutto i provvedimenti economici su crescita e sviluppo. Il ministro Fraccaro ha annunciato che se ne comincerà a discutere oggi nel Consiglio dei Ministri e che dovrebbero contenere una manovra di bilancio inevitabilmente pesante. Solo dopo il voto del 26 maggio dunque si capirà se il governo giallo-verde resterà in piedi oppure imploderà con conseguente ritorno alle urne anticipate, che non sarebbe ostacolato dal Colle ma non converrebbe né al movimento che si troverebbe in posizione di debolezza né alla Lega che dovrebbe tener conto dei suoi alleati di centro-destra. La lettura del voto del risultato in Basilicata al centro anche della direzione nazionale del PD. La prima con Nicola Zingaretti segretario. Zingaretti che chiede pieno mandato pensando a quelle che saranno le nuove alleanze. Ci sono da affrontare le regionali in Piemonte, la regione della TAV e poi le elezioni europee. Prima di tutto però al centro del dibattito c'è chiaramente la pacificazione interna, un percorso non semplice per il PD. Unità e alleanze. Nicola Zingaretti ha la sua prima direzione da segretario del PD e dopo il battesimo del fuoco elettorale della regionale in Basilicata fa il punto. Dobbiamo ricostruire un'unità tra di noi, spiega, perché la compattezza del partito è la condizione indispensabile per recuperare la capacità di costruire una coalizione. Spesso sono le nostre divisioni a impedire l'individuazione dei candidati unitari per le amministrative, ricorda. Premessa necessaria, mentre piovono sul neosegretario, le critiche della minoranza per il risultato lucano. Gli ha pesato una situazione locale grave, ma il mio non è un giudizio consolatorio, dice il segretario. E mentre i renziani ribadiscono il no deciso al rientro dei fuori usciti di MDP. Ci sono forze che vogliono dialogare, noi dobbiamo farci trovare aperti e pronti, anche per intercettare lo sfarinamento dei 5 Stelle e il malcontento di settori del centro-destra, insiste. Zingaretti annuncia che all'Europea il PD correrà con la scritta Siamo Europei, il manifesto di Carlo Calenda nel simbolo. Tre giorni di mobilitazione per il tesseramento, il 5, il 6 e il 7 di aprile. Una o due assemblee, al sud e al nord, con gli amministratori locali, e cita come possibili interlocutori per un'alleanza Italia in comune del sindaco di Parma Pizzarotti, più Europa, democrazia solidale, campo progressista, movimenti civici. Quanto ad articolo 1 MDP, Zingaretti non chiude la porta, ma è attento a precisare che non si tratterebbe del rientro dalla scissione dei bersaniani. Non si mettono le lancette indietro, Roberto Speranza sta lavorando per un soggetto politico autonomo, sottolinea. Perché le ultime regionali in calza Zingaretti ci hanno consegnato un nuovo bipolarismo tra il centro-sinistra e una destra-centro. La strada è lunga, non bisogna illudersi, ma noi siamo l'alternativa Salvini. La ripresa di consenso del centro-sinistra è possibile, sapendo che il bilancio del governo è catastrofico e sempre più insostenibile per le forze che lo compongono. Il compito del PD è far esplodere queste contraddizioni. Unità del partito da costruire su temi concreti. La direzione fa suo un ordine del giorno, firmato da Monica Cirinna e Francesca Puglisi, contro ogni arretramento sui diritti delle donne, a cominciare dalla legge 194 sull'aborto e diritti civili. Testo approvato in vista dal Congresso Mondiale delle Famiglie, la manifestazione ultraconservatrice, il programma Verona il prossimo weekend. Un passo indietro nella storia della civiltà, commenta Zingaretti. Guardiamo adesso all'Europa perché poco fa il Parlamento di Strasburgo ha approvato la direttiva di riforma del diritto d'autore, il cosiddetto copyright, che dunque consentirà ad autori ed editori di negoziare adesso con i giganti del web. Ci sono state molte proteste, è stato un percorso molto lungo, tant'è che ieri in Wikipedia si è oscurata, in Germania sono scese migliaia di persone in piazza che dicono che questo sì, da un lato tutela il diritto d'autore e dall'altro limita la condivisione di contenuti sulla rete. Allora, il servizio ancora non è pronto, restiamo in Europa e parliamo della Brexit perché il governo di Theresa May ha dovuto incassare una nuova pesante sconfitta, sì, perché il Parlamento praticamente con un voto ha avvocato a sé le future iniziative sul percorso della Brexit. Verranno votate, grazie a questo emendamento, alternative al piano di Theresa May. Quali alternative? Lo sentiamo nel servizio. Una barca in un mare in tempesta e per di più con un capitano delegittimato da un ammutinamento strisciante è la Gran Bretagna ai tempi della Brexit che ormai più che un affare nazionale assomiglia a uno psicodramma nazionale. Ieri in tarda serata un ennesimo colpo di scena del tutto inedito che aggiunge ulteriore incertezza. Il Parlamento ha approvato con 329 voti contro 302 un emendamento che di fatto sottrae al governo May il controllo sulla Brexit. Ora infatti sarà la Camera dei Comuni a dettare l'agenda e organizzare votazioni in aula su possibili piani alternativi a quello della Premier, la quale parla di pericoloso precedente perché in genere nel Parlamento inglese è sempre l'esecutivo a decidere cosa mettere ai voti. Ora non sarà più così e da domani inizierà la serie di votazioni indicative su possibili piani B, tra cui la Brexit morbida o addirittura un referendum bis che resta comunque molto improbabile nonostante le tante firme raccolte e le numerose manifestazioni di questi giorni. Soluzioni alternative che oltretutto non saranno legalmente vincolanti proprio perché non presentate dal governo. Di sicuro quindi produrranno ulteriore confusione, visto che l'esecutivo non potrà ignorarle, almeno sulla carta. Non assicuro di tenerne conto se questi andranno contro il risultato del referendum del 2016, ha infatti già preannunciato Teresa May, la quale incassa così il vennesimo duro colpo che la fa barcollare, ma non crollare e dimettersi. Eppure il suo governo continua a perdere pezzi. Ieri sera se ne sono andati tre sottosegretari, mentre molti di quelli rimasti chiedono di poter scegliere liberamente nelle votazioni che iniziano domani in Parlamento. La May spera ancora di riuscire a far digerire alla Camera il suo accordo con Bruxelles, ma non ha i voti e, come è noto, senza questo passaggio cruciale, la proroga concessa da Bruxelles scade il 12 aprile. Il tempo quindi sta finendo e l'epilogo drammatico del no deal viene considerato ormai dall'Unione l'evento più verosimile. Andiamo adesso in Francia, dove oggi è in corso il mini vertice europeo sulla Cina, un vertice al quale non partecipa l'Italia, che con la firma del memorandum sulla Via della Seta procede, diciamo così, in solitaria. Mentre in Francia Macron, Angela Merkel, il presidente Juncker e il presidente cinese Xi Jinping hanno affrontato il tema del multilateralismo, hanno affrontato il tema dei rapporti futuri fra l'Unione Europea e appunto la Cina. Messi in tasca contratti con Pechino per un valore complessivo di una quarantina di miliardi, il presidente francese Emmanuel Macron oggi ha presieduto il mini vertice Europa-Cina. Ha aperto le porte dell'Eliseo ospitando non solo il presidente Xi Jinping, ma anche la cancelliera tedesca Merkel, che forte dei suoi 5-6 viaggi annuali a Pechino e dell'economia del suo paese non poteva certo essere tenuta fuori, e il presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, a cui è toccato il compito, chiudendo il vertice dopo un paio d'ore, di dire che, insomma, l'Europa e la Cina dovrebbero definire e articolare meglio i trattati che regolano la reciprocità dei loro investimenti e che per questo c'è già una data fissata, che è quella del prossimo 9 aprile, quando le delegazioni dell'Unione e quella cinese si incontreranno di nuovo a Bruxelles, ascoltando, questa volta, il parere di tutti e poi si spera, siglando accordi. Anche perché, ha detto ancora Juncker, la Commissione è la sola responsabile delle relazioni commerciali e la Cina è sì un partner, ma anche un rivale e un competitor interessato. Cosa che il presidente Xi sa benissimo, ovviamente, che intende, fra l'altro, sfruttare anche per costruire un'egemonia che vada a detrimento dell'altro grande player economico internazionale, ovvero gli Stati Uniti. E dunque l'idea è quella di spostare l'asse delle relazioni, superando, ha detto Xi, i reciproci sospetti, anche se comunque nel frattempo sono stati fatti diversi passi avanti. Certo, in tutto questo stridono un po' gli appelli fatti dal presidente francese Macron affinché la Cina rispetti l'unità dell'Unione Europea. Non fosse altro perché, come dicevamo giusto ieri, la Francia chiudeva con Pechino un contratto per la vendita di 300 Airbus, ma anche un accordo per spoltare cultura attraverso la realizzazione di un centro bobo a Shanghai. Al contrario, ad esempio, di quanto è toccato a noi, che invece abbiamo dovuto restituire diverse centinaia di reperti archeologici cinesi. Una delle pochissime notizie rilanciate, con grande risalto, dai media di Pechino. E in un mondo che, come vediamo, si apre sempre di più, ci sono però anche dei diritti da preservare. Siamo a quanto vi avevo annunciato prima, ovvero il voto di Strasburgo a favore della direttiva di riforma del diritto d'autore. Che sentiamo? Il Parlamento europeo ha detto sì approvando la direttiva sul diritto d'autore. Dopo tre anni di discussione, lunghi negoziati tra Commissione europea, Parlamento e governi, ora i giganti del web dovranno pagare i compensi ad artisti, cantanti, musicisti, giornalisti ed editori per le opere intellettuali e creative messe in rete. Il rischio che sulla tutela del diritto d'autore ai tempi di Internet tutto saltasse era reale. La pressione esercitata dalle grandi piattaforme come Google, Facebook, YouTube è stata forte in tutti questi anni di assenza di questo importante principio giuridico. Hanno potuto sfruttare tutto questo materiale arricchendo le proprie casse con enormi profitti tra raccolta pubblicitaria e dati degli utenti. Perché in gioco ci sono tanti soldi? YouTube, ad esempio, con 900 milioni di utenti ha versato finora agli autori appena 500 milioni di dollari. Al contrario, Spotify, servizio musicale dal quale si scaricano le canzoni che ha solo 211 milioni di utenti e ha versato alle varie case discografiche e autori circa 4 miliardi di dollari. Per non rinunciare a questo bottino hanno fatto di tutto hanno bombardato le caselle di posta elettronica e i telefoni degli aerodeputati fino a mobilitare gli utenti facendo leva sul rischio di censura di Internet. Pressioni denunciate anche stamani dal Presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani durante il dibattito e dal relatore della direttiva, il popolare Axel Voss che ha accusato pubblicamente Google, Facebook e YouTube di diffondere disinformazioni soprattutto tra i giovani. Non c'è censura con questa riforma la libertà di espressione non viene limitata con questa riforma salviamo il patrimonio culturale europeo tutelandolo dallo sfruttamento da parte dei monopoli tecnologici ha detto Voss Una vittoria per nulla scontata perché tra gli europarlamentari e i governi le divisioni erano tante 5 governi dei 28 paesi dell'Unione Europea tra cui il nostro hanno dato voto contrario ma alla fine è prevalso lo schieramento che ha detto no al far west del web in Europa. Soddisfatte le associazioni europee degli editori e delle imprese culturali messe in crisi proprio da internet e che hanno visto così sancito il riconoscimento dei diritti dell'opera intellettuale quella di oggi era l'ultima chiamata in caso di bocciatura e con l'europarlamento scaduto la riforma sarebbe stata rimandata alle calende greche la votazione si è appena conclusa e ora serve solo l'assenso del Consiglio Europeo. Chiaramente ha fatto per niente soddisfatte le associazioni europee invece dei consumatori che stanno commentando quest'accordo definendolo come molto squilibrato. Parliamo di Papa Bergoglio che oggi è stato ricevuto dalla sindaca di Roma Virginia Raci. Che Roma si mantenga all'altezza dei suoi compiti e della sua storia che sappia anche nelle mutate circostanze odierne essere faro di civiltà e maestra di accoglienza. Nella sua prima visita in Campidoglio Papa Francesco ricorda subito il dovere dell'accoglienza come un compito prioritario per la città di Roma ad attenderlo la sindaca della capitale Virginia Raci un saluto insieme dal balcone dello studio della prima cittadina un brave colloquio privato e poi il discorso nella sala Giulio Cesare. Roma è la città dei ponti, non dei muri ha detto abbraccio il pontefice non si temano la bontà e la carità esortato esse sono creative e generano una società pacifica. Nel discorso del pontefice nessun accenno alle recenti vicende giudiziare con gli arresti e le inchieste per corruzione che hanno coinvolto anche la giunta capitolina. Papa Francesco ha voluto solo ricordare come la città eterna debba essere all'altezza della sua storia e come l'amministrazione necessiti di norme e risorse adeguate per gestire una realtà così complessa. Roma è un organismo delicato ha sottolineato ancora il pontefice che necessita di cura umile e assidua e di coraggio creativo per mantenersi ordinato e vivibile perché tanto splendore non si degradi e anzi possa conoscere una rinascita culturale e morale. La sindaca Raci nel suo discorso aveva ribadito l'impegno affinché nessuno resti indietro ricordando lo spirito inclusivo della capitale con un pensiero rivolto in particolare ai giovani che, ha detto, erediteranno ciò che noi seminiamo oggi. Le siamo grati, ha giunto la Raci, anche per voler dedicare nei venerdì della misericordia le sue attenzioni ai quartieri periferici, alle strutture seguite da associazioni benefiche. In chiusura, affacciati dalla loggia del palazzo senatorio, Papa Francesco e la sindaca hanno salutato i cittadini. Siate artigiani di fraternità e solidarietà, ha detto il pontefice. Anche chi non condivide la nostra fede è nostro fratello. Vorrei chiedere a ciascuno di voi di prendervi cura l'uno dell'altro ogni giorno e di rispettarvi a vicenda. Torniamo adesso sulle parole pronunciate davanti al PM di Milano da parte di Cesare Battisti, l'ex terrorista dei proletari armati per il comunismo e stradato in Italia dopo quasi 40 anni di latitanza. Battisti ha chiesto sì scusa ai familiari delle vittime ma soprattutto ha ammesso di aver commesso i quattro omicidi per i quali è stato condannato all'ergastro. Al medico dell'Inam, Diego Fava, Cesare Battisti sparò alle gambe il giorno prima che le Brigate Rosse uccidessero Aldo Moro. L'8 maggio 1978 era la notte della Repubblica e Battisti e i suoi compagni si preoccupavano di punire i medici sbirri di Stato. Fava, dal loro punto di vista, con le sue visite fiscali, si frapponeva all'assenteismo operaio che rappresentava nella retorica degli anni di piombo dei PAC un momento cardine per lo smantellamento di ogni pratica di rifiuto del lavoro e dello sfruttamento. Diego Fava, ultra novantenne, non ha visto la fine della latitanza dell'uomo che gli sparò e morto lo scorso gennaio pochi giorni prima della cattura di Battisti. Sua moglie Luciana non vuole rilasciare intervista escossa dalle notizie di ieri scettica sulle scuse dell'ex terrorista ai familiari delle sue vittime. Lei le accetta le scuse di Battisti? Ah no, assolutamente no. No, perché non ci credo, ecco. I verbali rilasciati sabato e domenica scorsi da Battisti nel carcere di Oristano al procuratore di Milano Alberto Nobili, i due non si erano mai visti prima ma Battisti ha voluto che fosse lui uno dei vecchi della procura a raccogliere la confessione, sono per la prima volta in 40 anni l'ammissione dei propri delitti da parte dell'ex terrorista. Il suo avvocato Davide Steccanella li definisce un testo a futura memoria tutt'altro che un'offerta di scambio con i magistrati anche se è chiaro che il riconoscimento delle proprie colpe per Battisti doveva essere il primo passo per eventuali benefici. Di sicuro è stata una deposizione sofferta durata due giorni in cui pur rivendicando di aver combattuto una guerra che credeva giusta Battisti ha ammesso che la lotta armata ha distrutto il movimento del 68. Per l'ex terrorista a metà maggio è fissato un incidente di esecuzione presso la Corte d'Assise d'Appello di Milano. I magistrati si dovranno pronunciare sulla richiesta di Battisti di tramutare l'ergastolo in una condanna a 30 anni come era stato convenuto con le autorità brasiliane prima dell'arresto in Bolivia. Secondo il suo avvocato Battisti doveva essere estradato dal Brasile e la sua espulsione dalla Bolivia non è stata regolare. Parliamo adesso di un incendio di vaste dimensioni un incendio alimentato anche dal forte vento di queste ore un vento che ha soffiato fino a 100 km all'ora e che ha colpito le alture di Cogoledo è praticamente il ponente di Genova ci sono famiglie sfollate scuole chiuse e per molte ore è stata chiusa anche un tratto dell'autostrada la A10 un incendio sul quale è chiaramente il sospetto se non ancora la certezza è quello del dolo. è stata una notte di seria mobilitazione ore difficili in un comune Cogoleto già colpito duramente dalla mareggiata dello scorso ottobre l'incendio si è sviluppato intorno alle 23 facendo scattare subito l'imponente macchina dei soccorsi la nottata è stata particolarmente impegnativa l'incendio era particolarmente violento alimentato dal forte vento che insisteva su varie zone e in particolare su questa zona noi abbiamo messo in campo un dispositivo di soccorso assolutamente di buon livello avevamo all'incirca 60 uomini 10 mezzi e quindi c'è stata una notevole attività nella notte che sta proseguendo questa mattina fino alle prime luci dell'alba non c'è stata tregua per gli uomini impegnati tra i boschi e i vigneti sono una cinquantina le persone sfollate alcune case danneggiate due totalmente distrutte con serie ripercussioni sulla viabilità interrotta solo da un paio d'ore è stata riaperta l'autostrada 10 chiusa nel tratto tra Barazze Savona e Arenzano Genova per consentire alla macchina dei soccorsi di muoversi senza ulteriori emergenze anche alcune scuole sono state chiuse chi era la guida nel tratto tra Barazze e Arenzano è rimasto intrappolato dalla velocità delle fiamme in certe zone arrivate fino al mare sì, sarebbe stata una bella pensata avvisare ai caselli in questo video gli automobilisti sono rimasti imprigionati poco prima di uscire da una galleria sbarrata dal fumo e dalle fiamme in mattinata il sindaco di Cogoleto Mauro Cavelli ha fatto il punto sulla situazione sta lentamente migliorando diverse via valle sono ancora chiuse oltre a quelle in località Capieso dove si è sviluppato l'incendio i volontari della protezione civile stanno comunque ripercorrendo il fronte di fuoco per bonificare i focolai è stato il governatore della Liguria Toti a fare il punto sulle cause dell'incendio che potrebbe essere ancora una volta doloso tornando sulla necessità di una normativa sul terrorismo ambientale è fondamentale prendere provvedimenti seri su questo rogo non abbiamo ancora la certezza ahimè abbiamo la certezza che la maggior parte dei roghi che si sviluppano nella nostra regione così come nel resto d'Italia sono di origine dolose ritengo che i piromani uno dei personaggi più squallidi e chi appicca l'incendio uno dei reati più gravi per il nostro paese i carabinieri del ROS hanno arrestato in provincia di Enna e in altre località italiane 21 persone accusate a vario titolo dei reati di associazione di stampa mafioso di omicidio e di estorsione in questo video diffuso dai carabinieri si vedono gli arrestati mentre partecipano ad un summit mafioso tra i clan di Pietra Perzia e la potente Cosca Catanese Ercolano Santa Paola le indagini hanno permesso di ricostruire anche diversi episodi criminosi tra cui l'omicidio del commerciante Filippo Marchi avvenuto in provincia di Enna il 16 luglio del 2017 intanto a Catania tre giovani sono stati arrestati per aver violentato in gruppo una ragazzina di 19 anni una serata in compagnia di un'amica in un locale nel centro della città tre ragazzi che si avvicinano e offrono da bere la proposta di spostarsi in un altro locale una volta in strada il trasferimento forzato in auto verso un luogo isolato sul lungomare e la violenza di gruppo e il racconto di una ragazza statunitense di 19 anni da tre mesi ospite alla pari di una famiglia catanese la violenza sessuale si sarebbe consumata dieci giorni fa la notte del 15 aprile la ragazza si trovava nei pressi di piazza Teatro Massimo il cuore della movida catanese era in compagnia di un'amica ma poi è rimasta da sola nel locale si è intrattenuta con tre ragazzi suoi coetanei che le hanno proposto di fare un giro a piedi per raggiungere un altro locale fuori però sempre secondo la testimonianza della ragazza è comparsa un'auto dove lei sarebbe stata fatta salire a forza sul sedile posteriore il tentativo di dare l'allarme chiamando il 112 con il proprio telefonino è stato bloccato da uno dei tre giovani in una stradina isolata sul lungomare della città racconta la ragazza si sarebbe consumata la violenza di gruppo a turno i tre avrebbero abusato di lei mentre gli altri riprendevano la scena con i telefonini al ritorno a casa la ragazza ha raccontato tutto al telefono alla madre e alla sorella che l'hanno convinta a denunciare la studentessa aiutata anche dalla famiglia catanese di cui è ospite ha così presentato un esposto ai carabinieri ed è stata sentita dal pool di magistrati della procura di Catania specializzato nei reati riguardanti la violenza di genere sei giorni dopo il fermo dei tre ragazzi identificati grazie a un video che la ragazza aveva girato all'interno del bar dove aveva incontrato i tre presunti violentatori uno dei tre il giorno dopo l'aveva anche contattata sui social e le aveva inviato un video chiedendole di uscire ancora insieme anche il video postato dai tre è stato acquisito dagli investigatori dopo l'interrogatorio di garanzia il fermo è stato convalidato andiamo adesso in Medio Oriente dove la tensione è davvero alle stelle tra circa mezz'ora si riunirà il consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per discutere la situazione dopo quel lancio ve l'abbiamo raccontato ieri del Raz da parte di Gaza che ha colpito la periferia di Tel Aviv e la conseguente controoffensiva israeliana contro Hamas il premier israeliano Netanyahu ha detto di non voler accettare il cessate il fuoco di Gaza i raid dell'aviazione su Gaza non si fermeranno ma continueranno il premier israeliano smentisce che con Hamas sia stata siglata una tregua ed ha ordinato di proseguire la risposta armata dopo l'inferno della notte questa mattina sembrava che a Gaza fosse tornata una normalità almeno apparente con Hamas che aveva ordinato anche la riapertura di scuole ed uffici pubblici le luci del mattino avevano mostrato le macerie di quelli che Israele ha definito obiettivi terroristici colpiti e distrutti dalle bombe cinque famiglie vivevano qui racconta Zouir ora non abbiamo alcun riparo siamo sfollati la dura reazione israeliana è stata la risposta al lancio di razzi almeno 60 partiti da Gaza contro Israele qualche ora prima che hanno provocato sette feriti ma per fortuna nessuna vittima angoscia e paura sono tornati nuovamente tra chi vive al confine è suonata la sirena e siamo subito corsi al rifugio antiaereo ricorda Shlomo abbiamo chiuso la porta e dopo un minuto abbiamo sentito una forte esplosione che ha scosso le pareti quando siamo usciti fuori abbiamo visto la nostra casa in fumo Netanyahu che ieri a Washington ha incassato un nuovo attestato di amicizia dal forte alleato statunitense con il riconoscimento da parte di Donald Trump della sovranità israeliana sulle alture del Golan una mossa che ha provocato la fermare azione di Siria, Russia, Cina e Turchia è rientrato nel paese interrompendo la sua visita negli USA per seguire da vicino la nuova crisi la firma di ieri non è solo un passaggio epocale come lo stesso primo ministro è riconosciuto che segue altri passi importanti come il ritiro dal trattato sul programma nucleare iraniano o quello del trasferimento dell'ambasciata americana a Gerusalemme ma dà nuovo vigore alla campagna elettorale per le elezioni del 9 aprile che vedono Netanyahu impegnato per ottenere un quinto mandato indebolito dalle indagini della magistratura per un suo presunto coinvolgimento nella vendita di sottomarini tedeschi all'Egitto accuse sempre le spinte il primo ministro si era ritrovato a gestire una crisi provocata dalle dimissioni del ministro della difesa di Iberman contrario proprio all'accordo di un cessato il fuoco con Hamas su Gaza ci fermiamo adesso per qualche istante dopo la pubblicità pagina sportiva tra poco torniamo in studio per la pagina sportiva che apriamo chiaramente con la nazionale di Roberto Mancini questa sera è chiamata al secondo appuntamento sulla strada delle qualificazioni dell'Europeo del 2020 la vittoria i complimenti dopo la partita con la Finlandia questa sera l'avversario sulla carta è ancora più facile ma sempre sulla carta è il Lichtenstein il rischio del troppo facile può essere in Siria maggiore per l'Italia di Mancini contro un avversario di piccolo capotaggio ancora di più magari ripensando alle ultime qualificazioni mondiali quando il Lichtenstein naufragò sotto le nove reti totali degli azzurri di Ventura ma non si deve commettere l'errore di considerare la pratica già archiviata solo perché siamo l'Italia sono quelle partite che se non sblocchi iniziano a diventare un po' fastidiosa non sono tutte scontate basta vedere Brasile e Panama di tre giorni fa uno a uno quindi le partite vanno giocate e prese tutte quante col massimo della concentrazione se l'atteggiamento mentale sarà corretto la partita potrebbe regalare soddisfazioni soprattutto agli attaccanti e dare una spallata alle nostre difficoltà sotto porta un bel gruzzolo di gol non guasta mai a prescindere per il morale e la classifica e stavolta il nostro attacco è quanto mai singolare per i suoi eccessi generazionali il ragazzino Ken è il diversamente giovane Quagliarella 19 e 36 anni sembra il manifesto migliore per una nazionale che abbraccia il rinnovamento ma non sposa la rotamazione a prescindere di chi è ancora competitivo non bisogna infatti dimenticare che Quagliarella è il capo cannoniere della Serie A davanti a Cristiano Ronaldo le prestazioni sono sotto gli occhi di tutti Mancini sottolinea i meriti e chiarisce che non è una presenza a gettone come dire se continua così lo porta all'europeo la chioccia è il pulcino Ken che ha bisogno di minutaggio ma che secondo il suo vato e procuratore Raiola deve giocare sempre adesso si apre uno scenare nuovo con l'infortunio di Ronaldo per il futuro ci attendono le strategie di mercato perché nel 2020 scade il suo contratto a completare il tridente stasera ci sarà Politano una delle novità nella formazione che cambia più del previsto per la stanchezza e gli infortuni importa l'occasione di vedere Sirigu rivoluzionata la difesa in cui resta solo Bonucci al suo fianco Romagnoli Spinazzola a sinistra mentre sull'altra fascia c'è il debutto di Mancini dell'Atalanta a centro capo sembrava destinato al riposo lo stacanovista Giorginio 41 partire con il Chelsea con il cambio naturale di Sensi che invece prende il posto di Barella confermatissimo Verratti che sembra arrivato alla maturità allora diciamo che è stato assolto perché il fatto non sussiste Marco Paoloni chi è Marco Paoloni è l'ex portiere della Cremonese che fu accusato di aver riempito con del sonnifero le bottigliette dei compagni nel novembre del 2010 da questo episodio nacque l'inchiesta della procura di Cremona che poi portò allo scandalo del calcio scommesso del 2011 dunque Paoloni assolto perché il fatto non sussiste adesso parliamo di qualche cosa che succederà presto una rivoluzione storica se tutto dovesse appunto avvenire come è pensato la Superlega europea qualcosa di diverso rispetto alla Champions League nelle intenzioni di chi da tempo spinge per questo calcio allargato non più ai confini nazionali campionati nazionali il mercoledì e gare di coppa nel weekend il mondo del calcio si appresta a vivere una rivoluzione epocale a partire dalla stagione 2024-2025 scatterà la nuova Champions League che avrà un format molto diverso da quello attuale 32 squadre divise in 4 gruppi da 8 una prima fase con girone all'italiana e partite di andata e ritorno seguita poi dagli incontri ad eliminazione diretta per ogni nazione un paio di club forse 3 avranno diritto a partecipare sempre in base alla loro storia sportiva da noi le principali candidate dovrebbero essere Juventus Milan e Inter per le altre la possibilità di un invito con la formula delle wild card il progetto di una Super Champions sempre più chiusa e meno democratica è stato presentato questa mattina ad Amsterdam dove l'ECA l'associazione dei club europei presieduto da Andrea Agnelli ha trovato la piena condivisione della UEFA la federazione calcistica del vecchio continente nessun torneo privato all'americana come la NBA dunque ma un'evoluzione della Champions che abbiamo imparato a conoscere in questi anni nella quale crescerà il peso politico ed economico delle grandi società sarà naturalmente una competizione molto più ricca con le televisioni a dettarne il calendario l'obiettivo è quello di avere un giro di affari superiore agli introiti della Premier League il principale torneo di calcio al mondo chi sarà disposto a pagare i diritti tv si parla di circa 5 miliardi di euro avrà la possibilità di imporre date e orari alcune partite della Super Champions che prevede anche un sistema di promozioni e retrocessioni potrebbero giocarsi il sabato e la domenica giorni finora dedicati ai campionati nazionali che declassati a tornei minori verrebbero relegati nel corso della settimana l'ECA punta inoltre a ridurre drasticamente le finestre per le rappresentative nazionali e il numero complessivo delle partite durante la stagione opponendosi alla creazione del mondiale per club a 24 squadre sponsorizzato dalla FIFA in una forte contrapposizione di poteri con la Federcalcio internazionale possibile invece l'introduzione di una terza coppa europea già dal 2021 allora parliamo di un grande protagonista lo avete sentito nel servizio precedente l'accenno all'infortunio a Cristiano Ronaldo che è uscito dal campo al 31esimo della sfida ieri contro la Serbia con la sua nazionale il Portogallo sfida valida per le qualificazioni un problema muscolare ai flessori della coscia destra per Ronaldo probabilmente si tratta di uno stiramento la cui entità sarà verificata adesso con una serie di analisi strumentali il fatto che abbia lasciato il campo con le proprie gambe fa ben sperare non è però definitivamente significativo la preoccupazione maggiore in casa Juventus è che Ronaldo debba saltare la sfida di Champions quella del 10 aprile nell'andata dei quarti di finale contro l'Ajax dunque momento decisivo per la stagione della Juventus quello c'è un'altra notizia che vi vogliamo dare e che riguarda invece il figlio di un'icona dello sport Mick Schumacher figlio di Michael che farà il proprio debutto martedì prossimo è ufficiale adesso lo ha dichiarato la Ferrari farà il proprio debutto sulla Ferrari nel primo giorno dei test che seguiranno il Gran Premio del Bahrain il 22enne pilota tedesco scenderà in pista in entrambe le giornate cominciando con la Ferrari poi il giorno seguente alla guida della vettura del team Alfa Romeo Racing molto felice dice Mick Schumacher di questa opportunità per la quale ringrazia la Ferrari non vedo l'ora di godermi questa incredibile esperienza che sicuramente susciterà molta emozione anche negli appassionati di motori per quello che questo ragazzo chiaramente rappresenta per la Ferrari noi vi salutiamo qui adesso la puntata di Tagadà con Tiziana a Panella un parterre di ospiti davvero ricco oggi a lei diamo la linea grazie ci rivediamo domani grazie a tutti